Bisogna avere il coraggio di dire all'Europa che le cose non vanno, ma non vanno non perché ci vuole meno austerità o cose di questo tipo, che in realtà sappiamo benissimo a cosa serve ed ha ottenuto perfettamente il suo risultato. Quando è arrivato Monti è arrivato per qualcosa, è arrivato per eseguire e voi, inteso voi come PD e questo governo, siete esattamente in quel solco lì. Infatti di cosa si legge sui giornali? Che gli sblocchi Italia, così, sono bloccati e similari. Ma d'altra parte invece cos'è che procede molto speditamente? Le privatizzazioni, la svendita dell'Eni, la svendita dell'Enel. Sono tutte cose che non servono a nulla, non solo, sono dannose. Che non servono a nulla è una tua opinione, però stai parlando di un paese che come noto, a parte la Grecia, ha il maggior carico di debito pubblico, è una situazione drammatica. Noi stiamo impegnati a fare le riforme, innanzitutto per noi, ma anche per poter chiedere efficacemente all'Europa un cambio, un cambio di passo, non puntare solo sulle politiche di austerità, ma indirizzarle verso la crescita, verso il lavoro. Questa cosa la sentiamo da anni questa cosa? Ma noi non dichiariamo guerre all'Europa, cerchiamo di costruirle in un momento in cui tra l'altro abbiamo le guerre alle porte. Non è che possiamo fare l'autarchia. Beh, adesso c'è la guerra. Non possiamo fare l'autarchia. Ma scusate, ma una cosa semplicissima. Allora, io non leggevo la Padania, leggevo il Sole 24 Ore, che ieri mi diceva che il nostro debito, anche quello più costoso, quello a dieci anni, è a 2,5%, o sbaglio. Quindi il tasso di interesse sul decennale è 2,5%. Questo è quello che paghiamo per indebitarci. Sullo stesso giornale mi dice che l'ENI ha un dividendo più o meno stabile, anzi in crescita, diciamo, nel tempo, del 5%. Quindi noi stiamo vendendo una cosa che ci rende il 5% per ridurre un debito che ci costa il 2%. Ma stiamo buttando fuori i soldi dalla finestra. Siete dei matti, ma degli apprendisti stregoni. Allo Stato, sì. Le aziende strategiche del nostro Paese non sono in vendita. Lo Stato mantiene il controllo. Ma perché manca vendere il 5%? Se rende il 5% invece il debito costa il 2%. Ma perché mai lo facciamo? Borghi, tu hai una posizione francamente statica. Per sembra che il nostro Paese non possa innovare perché deve mantenere... Io vorrei capire una cosa da Borghi Verini.